Se non ci uccide il Covid lo farà la crisi economica e la frase che ripetono in tutto il mondo ormai i piccoli esercenti, le partite IVA e tutti i liberi professionisti convinti che un nuovo confinamento totale o l'inasprimento delle misure esistenti getterà milioni di persone in mezzo a una strada. Qui siamo in Galles dove sono chiusi bar, ristoranti e negozi, un blocco per 17 giorni a partire da venerdì sera. Stiamo facendo due passi avanti e sei passi indietro, molte persone vengono al mercato per socializzare perché sono sole, è piuttosto devastante. L'Italia dal canto suo si prepara a un secondo picco di casi e le autorità stanno mettendo in atto nuove restrizioni. A Milano un nuovo coprifuoco ha costretto ristoranti e bar a chiudere alle 23. Un ristoratore spiega perché gli conviene di più tenere chiuso. Adesso incassiamo molto meno, adesso siamo sui 4-500 euro al giorno, adesso non ci stai dentro, infatti la mia frase se apriamo falliamo ti conviene di più rimanere chiuso che aprire perché tirare sulla Claire già hai un costo fisso che non hai se rimani chiuso. In Francia, dove due francesi su tre devono sottostare a un coprifuoco dalle 21 alle 6 del mattino, provano a rispolverare il brunch, almeno nei fine settimana, è quello che fanno a Lione i membri dell'organizzazione Bouchon-Lionnet. Sono le 10.40, perfetto, mi permette di dimenticare un po' tutto il contesto, di divertirmi, bere, mangiare, è un po' diverso da quello che vediamo di solito, ma sta andando alla grande, tutto bene. Il primo ministro Jean Castex ha esteso il coprifuoco che adesso interessa 46 milioni di persone su di una popolazione di 67 milioni.